se vuole intervenire se no posso ai consiglieri comunali sì grazie signor Presidente signor Sindaco assessori presenti consiglieri tutti buonasera grazie dell'opportunità di poter intervenire in questo consiglio comunale parlo come delegato dell'associazione Cotas il porto di salute del Presidente l'Avvocato Andrini Almerelli la nostra posizione è una posizione perfettamente tecnica noi comunque ci mettiamo a disposizione dell'amministrazione di quanti associazioni che ne avessero comunque interesse nell'avviare quelle che possono essere procedure per ridimensionare e ricodificare questa procedura di autorizzazione per un impianto di compostaggio la nostra posizione tecnica è che l'impianto comunque è sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze di quella che è la comunità di Sansevero e di quella che sono le esigenze poi del lato foggia 4 in cui Sansevero è inserita Sansevero produce grosso modo tra le 20 e le 22 tonelate di umido al giorno per cui in un contesto di 100.000 abitanti qual è quello del lato un impianto calibrato o ammisurato sarebbe un impianto da 25.000 tonnellate annua potremmo arrivare a 30.000 per andare incontro a quelle che possono essere esigenti della provincia per chiudere il ciclo dei rifiuti per cui un impianto da 60.000 per noi è considerato un po' fuori luogo rispetto alle effettive esigenze del territorio le tecnologie che sono state proposte nell'impianto risultano abbastanza obsolete si parla di impianto aerobico e noi abbiamo tutti esperienze e contezza di quello con l'impianto aerobico non a caso ne abbiamo uno all'uscita con tutte le criticità che sono state palesate sia dai residenti di quella vicina città ma anche dai residenti foggianni che hanno subito dei miasmi in particolari condizioni di vento l'impianto è stato ubicato in un sito che fino a quattro anni fa era non idoneo da un punto di vista idraulico per chi ha un po' di dimestichezza o anzi per chi è sansevese da oltre trent'anni ricorda gli allagamenti del triolo che hanno portato a situazioni di asfissia delle radici degli vigneti presenti in quella zona oggi quella zona è passata da una pericolosità di carattere 3 a pericolosità di carattere 1 va bene ma tecnicamente non è stata fatta nessuna opera idraulica che ne giustificasse questo cambiamento per cui da un punto di vista tecnico questa situazione potrebbe anche se da un punto di vista documentale è a posto ma da un punto di vista operativo un domani ci potrebbe portare a un allagamento bombe d'acqua cambiamenti climatici come hanno detto che mi ha preceduto possono portare a un allagamento che potrebbe esondare tutta la massa di composto presente nei terreni limitrofi e quindi creare un disastro ambientale di proporzione oltre di migliaio di ettri come da regolamento PAI che identifica quella zona l'altro problema che noi solleviamo e che comunque vogliamo essere di supporto all'amministrazione è un inviando a gestione pubblica una cosa è il privato che fa il privato e ha come obiettivo il guadagno perché comunque il privato punta al massimo profitto e quindi molto spesso abbiamo visto privati che si sono mossi in quelle che sono le borderline delle leggi una cosa è il pubblico che comunque è esempio di quello che sono il rispetto delle regole e il rispetto delle azioni giusto per recitare un a capo visto che comunque il compostaggio è una cosa che in qualche modo mi appartiene il Comune di San Zeneo si candida dopo necessaria fase di informazione e di partecipazione del territorio nonché successivamente ad un'attenta verifica di compatibilità mediante rigoroso e cautelativo rispetto dei parametri previsti dalle leggi vigenti forse ambientale e della salute ad ospitare al proprio territorio la costruzione di un impianto integrato per lo smaltimento di recupero e riciclaggio dei rifiuti e a tra fine chiede di convocare conferenza di servizi per questo sessorato regionale questo è il deliberato delibero di consiglio comunale numero 3 del 2012 con cui alcuni consiglieri oggi presenti in aula si impegnavano a far sì che San Zeneo ospitasse quello che doveva essere un impianto di calibrazione a livello di Ato a livello di Aro e di matrice completamente pubblica o comunque a controllo pubblico noi oggi chiediamo che questo contesto cittadino questa massima cittadina in qualche modo riprenda questa volontà di matrice pubblica dell'impianto matrice pubblica del ciclo di rifiuti perché i rifiuti sono delle criticità e ve lo dico da tecnico se queste criticità sono risorse dal pubblico il pubblico riesce in qualche modo a garantire un successo se sono giusti da privati il privato molto spesso o per malafede o per buona fede e ignoranza o per ignoranza e malafede va a sforare in situazioni che poi ricadono su quelle che sono le teste e le cittadine per cui non siamo contrari all'impianto di comportaggio anzi siamo a favore dell'impianto di comportaggio ci auspichiamo l'impianto di comportaggio perché in qualche modo lo abbiamo già auspicato in passato ma vogliamo che tutti i cittadini e i politici che li rappresentano siano garantiti in questo processo anche per noi il principio di precauzione risolta di fondamentale importanza per cui un po' l'elemento conduttore di chi si può concludere si concludere grazie anche per noi il principio di precauzione è il filo conduttore quindi lo avvochiamo come dettame per poter in qualche modo rivedere quelle che sono le situazioni oggi in atto e cercare in qualche modo di avviare una contrattazione per portare poi a una gestione pubblica a controllo pubblico degli interi in piano grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti grazie grazie continuiamo la discussione ha chiesto intervenire il consigliere di sabato io sarò velocissimo perché poi ovviamente devo spiegare elementamente quindi non mi va di essere troppo diciamo così in presenza video però devo fare innanzitutto i complimenti alle associazioni che si sono susseguite e volevo auspicare come era forse anche intenzione del consigliere Santarelli di unificare le delibere e magari questo è considerato che il principio di precauzione per quanto possa essere generico ma importantissimo si può comunque sempre andare a riconsiderare facendo presente sia le associazioni che forse non l'hanno letto ma già nella delibere precedente quella del 2018 si faceva riferimento allo stesso principio dove però il diciamo così il tribunale amministrativo regionale non ne ha affatto truto conto perché giudicato diciamo così in maniera troppo generica e invece resterete fino alla fine troverete degli appunti specifici anche nell'altro corpo della lettera quella emendata anche da sottoscritto da alcuni altri consiglieri dove invece siamo stati sicuramente più tecnici inquadrando la problematica rispetto al codice dell'ambiente le problematiche invece poneva semplicemente quindi non lo so se poi la nostra consigliera capocina vorrà eventualmente decidere di unificare il problema considerato che come ha già detto anche il nostro ospite Cammini Socio io la vedo che in questo momento non è la situazione di fare di tarsi colpe o di trovare per forza il capo espiatorio ma tutti quanti assieme se mi piace lo spirito che avete tutti evidenziato quello di trovare una soluzione che favoresca il nostro territorio siamo tutti quanti convinti che è spropositato ha delle dimensioni enormi per le nostre esigenze mi dispiace contraddire il nostro ingegnero altro siamo anche amici con Massimo ma i 30.000 non ci sono proprio perché forse hai un riferimento analitico del tonnellaggio vecchio perché adesso facendo sempre differenziata e evitando una serie di problematiche noi siamo tranquillamente sufficienti come Aro tranquillamente